Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Prosegue questo giovedì in Serie B, sedicesima giornata, la seconda partita che ho scelto di seguire in questo pomeriggio è quella tra il Cittadella e il Bari. Ha vinto il Bari per 3-0, un gran bel successo per gli uomini di Mignani, tornati a vincere dopo due mesi, era dall'8 di ottobre che non vincevano quando avevano superato il Venezia in Laguna. Torna quindi un successo esterno, il Bari sicuramente si esprime meglio quando gioca in trasferta, il suo gioco veloce e rapido nel ripartire sa mettere molto in difficoltà gli avversari. Credo che stavolta, io sono un grande tifoso come sapete di Mister Mignani e credo che stavolta abbia veramente centrato tutte le decisioni, abbia scelto un perfetto 11 di partenza, partendo da sostanzialmente il finale della gara col Pisa quando avanzando Foloruncio e inserendo Benedetti aveva trovato il miglior momento della squadra nella prestazione contro gli ottimi Toscani. Questa volta è partito quindi un assetto con Botta, Shedler e Foloruncio davanti, Benedetti nei tre di centrocampo, devo dire che Cittadella non ha giocato una cattiva partita, soprattutto nei primi minuti è entrata con grande vigoria, con grande ritmo, sicuramente non è stata molto fortunata con gli infortuni, perché Magrassi che sembrava essere piuttosto in forma si è fatto male subito al quarto minuto e è dovuto uscire e poi inizio ripresa anche l'altro attaccante Tunkara è dovuto uscire anche lui, per cui diciamo la squadra di Gorini che è una squadra come sempre molto agonistica e solitamente anche piuttosto fallosa e capace di interrompere le azioni di gioco degli avversari, questa volta invece questo non è riuscito a farlo perché il Bari è stato più veloce ad andare via, ricostruire le proprie occasioni e ha sfruttato comunque le indecisioni e gli errori anche poi della difesa del Cittadella. Shedler oggi ha giocato una grandissima partita, probabilmente le critiche che ha ricevuto dopo la brutta sfida contro il Pisa lo hanno caricato e oggi a mio avviso è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore, le pageli a mio avviso del Bari oggi sono molto alte perché credo abbia giocato una partita ai limiti della perfezione, al di là dell'avversario che non è la squadra più forte del campionato e oggi era anche in una versione magari un po' più ridotta, però merito del Bari più che di merito del Cittadella, il gol dell'1-0 arriva al tredicesimo minuto e nasce dalla follia di dover sempre passare alla palla all'indietro, Vita passa la palla verso la propria linea difensiva del Fabro Scivola, bravissimo Shedler a recuperare il pallone e a superare anche Castrati in dribbling e a mettere il pallone nella rete sguarnita. C'è un po' di reazione del Cittadella, ma è ancora il Bari bravo a trovare il gol del 2-0, una ventina di minuti dopo e lì è Folo Runcio splendido perché recupera un pallone da Mastrantonio, entra in area e spiazza Castrati, anche in quel caso molto lento del Fabro a reagire. Tutte le azioni da gol del Cittadella sono arrivate su un solo giocatore che ha avuto oggi una giornata parecchio sfortunata, ovvero Mastrantonio, che ha avuto un tiro da fuori, un colpo di testa ben parato da Caprile, nel secondo tempo colpisce anche un palo e per di più è anche il responsabile del secondo gol perché si fa togliere la palla con troppa leggerezza da Folo Runcio, quindi un pomeriggio proprio negativo per il giovane che ha giocato anche nella Roma a primavera in passato. Devo dire quindi nella ripresa cambiano un paio di cambi da parte di Gorini, il Cittadella ci prova a sprazzi, però tante volte anche i terzini sbagliano i centri, i cross, l'occasione più clamorosa è questa che abbiamo descritto poco fa, c'è il palo da due passi di Mastrantonio e sulla ribattuta si avventa Cassandro che sta già quasi esultando, ma Caprile è veramente incredibile, si candida ancora di più come uno dei migliori portieri, se non il miglior portiere di questo campionato di Serie B respinge anche quell'occasione e qualche minuto più tardi poi arriva in una classica transizione offensiva del Bari, la rete del 3-0, anche in quel caso è molto bravo Scheidler che apre una palla in contropiede, Folo Runcio porta via il marcatore, lentissimo Branca a rientrare e Maita trova facilmente il gol del 3-0. Bari che aveva avuto anche altre chance con dei colpi di testa, anche uno di Benedetti che oggi ha giocato benissimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, insomma una gran prestazione veramente, un ottimo ritorno a successo per la squadra pugliese che si ricandida sicuramente per un campionato di vertice e soprattutto magari galvanizzata anche dal sapere il proprio compagno Chedira che ha fatto anche il suo debutto ai mondiali, giocando anche una partita interessante anche se si è mangiato almeno un gol nella partita contro la Spagna, ma dimostrando di poter dare il proprio apporto anche in una rassegna importante come i campionati del mondo, la massima rassegna, e quindi magari anche questo ha dato ancora più agonismo a un bel Bari arroccato dietro, un di Cesare veramente leader della difesa, Maita Maiello a centrocampo, una gran collaborazione di Benedetti, mi sono piaciuti tutti, devo dire a mio avviso una delle migliori prestazioni dell'anno. Tanto da lavorare invece per il Cittadella, una squadra sempre rognosa e però stavolta messa veramente nelle condizioni di non essere pericolosa più di tanto da parte di un ottimo Bari. Veniamo alle pagelle dopo questa bellissima vittoria, per quanto riguarda Cittadella sei a Castrati, sei a Mattioli sostituito ma a mio avviso non stava andando così male, cinque a Del Fabro sfortunato nella scivolata ma anche in ritardo più volte nelle chiusure, cinque e mezzo a Frare, un pochino meglio del compagno di reparto, sei a Donnarumma, sei a Vita anche se quel retropassaggio assassino centrale con la punta che lavorava nelle vicinanze sul primo gol è stato un po' troppo azzardato, cinque e mezzo a Branca, cinque a Mastrantonio perché appunto un po' meglio di dimenticare per lui, cinque e mezzo a Antonucci, cinque e mezzo a Tunkara, senza voto Magrassi che si è fatto male subito, cinque e mezzo a Lores Valera che lo ha sostituito, sei a Cassandro e cinque a un nervosissimo carriero che è entrato nella ripresa e ha fatto qualche intervento anche un po' eccessivamente rude e non mi è piaciuto molto pur essendo un giocatore che solitamente è tra i miei preferiti. Cinque e mezzo al mister Gorini, per quanto riguarda il Bari, sette a Caprile che è un portiere delle volte che penso scoraggi anche gli avversari perché riesce a parare delle conclusioni veramente anche difficili, è un portiere solido e di sicuro talento. Sei a mezzo a Puccino che leggo, ho letto anche un po' di articoli, non è particolarmente amato dalla tifoseria, è un giocatore comunque che invece non dispiace assolutamente, anche oggi credo che abbia fatto il suo dovere senza lodi eccessive ma anche sicuramente senza infambia. Sette e mezzo all'ottimo di Cesare, leader anche come va a dividere compagni avversari nelle mischie, come va a parlare con l'arbitro, veramente grande leadership. Sette a Vicari, sei e mezzo a Dorval sull'altra fascia, un paio di imprecisioni ma anche tante belle chiusure, sette a Maita, sette a Maiello, sette e mezzo all'ottimo Benedetti, un primo tempo perfetto, un lieve caro nella ripresa ma ha giocato veramente molto bene, sei e mezzo a Botta che quando parte in velocità è inarrestabile, sette e mezzo a Foro Runcio, gran partita e poi io do questa volta otto a Scheidler perché credo abbia fatto una partita di risposta a un momento difficile, di grande consistenza, ancora un assist e tanti pericoli creati dalla difesa avversaria. Dei subentrati sei e mezzo a Bellomo rimane, credo che meriterebbe più spazio del Rico, però è un Bari che finché funziona è chiaro che è difficile magari andare a mettere altre, a cambiare le rotelle di un ingranaggio che va, comunque del Rico è un gran giocatore. Otto a Mignani, bravissimo in questo caso, mi è piaciuto Piccinini, ha arbitrato bene, sette, il voto per lui, venticinque falli e quattro cartellini. Grazie ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, le prospettive di campionato di queste due squadre, se vi è piaciuto questo Bari di oggi corsaro e in grande forma, con la Serie B abbiamo ancora due o tre partite che voglio seguire, i video non credo che usciranno stasera, saranno oltre stasera tardi e domani mattina. Grazie a tutti, un bacio, iscrivetevi al canale e ciao a tutti da LOX.